sfatti mazzagocchiaie che completamente sfatti sono sudato come una bestia tu non sudi mai io sono un cadavere non è vero però oggi c'è un po di oggi ho spangato ieri ma oggi è peggio perché se non canti fai più intervista che ti stai lamentando nel diario oppure il diario non lo annoveri tra le interviste al diario di brutto è figo il diario è un momento di relax perché ce la raccontiamo esatto se lo raccontiamo in totale mangiando dal sushi ai partiti allora incominciamo subito per questa serata abbiamo portato tramezzini addirittura sì perché abbiamo detto niente di di pesante ecco fai come me perfetto non so se vedete siamo in quest'ambiente meraviglioso con questa luce cimiteriale e abbiamo anche i fiori in barton mi sento a mio grande tramezzini dai tramezzini cominciamo con i tramezzini eccola 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 la ragazza del sushi tramezzini e bomboloni bravissima sono grandi pure come sono e quello che è pollo al carri grazie grazie mille allora apri tu apro io una prima in cominciare tramezzini e nel frattempo mi racconti ieri sera come è andata ok il polo al carri e il polo di jim carri attori preferiti se si del mio preferito di lui siamo più scemo perché perché diciamo uno dei primi film che ho visto e poi è il simbolo di amicizia tra me uno dei miei migliori amici ci siamo conosciuti per quel film la scuola è diventata profondo pure facciamoci in cina facciamoci in cina col tramezzino ormai questo è mozzarella e pomodoro mi sono e lo te lo scelgo perché mi sa che l'unico vedi gli altri no ma se lo vuoi mangiato questo è tonno e quest'altro forse posso di tonno il maionese vai prendi quando questo altro città a noi arrivato stava ammazzando qualcuno arriva per il secondo dicevi del film siamo più scemo se avete però hanno capito un po che l'appuntamento c'è perché non l'abbiamo condiviso però incominciano ad arrivare un po di cuori un po di cose noi mangiamo e voglio sapere di ieri sera tutto allora ieri sera non me l'aspettavo ma sono stato abbastanza tranquillo non ho avuto quella quell'emozione che dice oddio me la sto facendo sotto ovviamente adrenalina prima entrare sul palco c'era però sono entrato ho visto maria che mi ha presentato mi ha dato un'occhiata mi ha tranquillizzato di brutto mi ha fatto sentire a casa magari infatti forse si capiva perché quando in effetti quando sei entrato hai girato lo sguardo verso di lei si questa cosa si mi ha fatto sentire a casa mia e ha detto cantiamo e mi è passato tutto ma ero veramente concentrato datti un voto alla performance io mangio un voto a performance secondo me 8 i punti che mancano a 10 si può far sempre di meglio 199 e il secondo diciamo avevo lo smoking che mi strozzava sai che volevo dire però ho detto 9 lo smoking mi strozzava e non è che ho reso tanto a livello era portava la voce io pensavo fosse un po invece un po e no era stretto mi strozzava proprio sai per un cantante non è il massimo avere il collo stretto nella camicia però devo dire che ecco 8 perché sono stato molto concentrato sull'intonazione e ho dato quel che ho dato finalmente qualcuno che dice la verità perché tutti dicono lo sai mi mantengo basso perché magari non voglio fare per le mie per la potenzialità che della canzone è certo a 10 quei due punti gli vuole c'è sempre tempo per venerdì c'è l'altra esibizione sì sì venerdì c'è altra esibizione domani ci sarà la cover quale fai che non mi ricordo un giorno crede di eduardo benato con da solo da sola bene perché c'era sabitudine dei duetti ti potevi portare qualcuno a chitarra a l'avevi detto questo no in realtà ho anche sono accompagnato l'orchestra però la chitarra in mano figo senti un po ti abbiamo preparato con un giochetto oggi il gioco dei tweet cattivi oddio quindi tu adesso leggerai leggendo quindi facendo sentire anche a loro i tweet cattivi che abbiamo rintracciato in questi giorni e li commenterai molto bene sei d'accordo questo è il primo per votare adesso per a me invia un sms al tuo turino salutiamo come grande il secondo martola penso di parlare a nome di tutti che ti dico se dico adesso verrebbe che se decide di fare il barista non lo appoggiamo ho già fatto non è meglio far cantante che hai fatto nella vita barista anche poi idraulico barbiere vero barbiere parrucchiere scusa quindi donna no spazzavo per te ah perfetto quindi diciamo sguatterò parrucchiere che vedete ma il ritornale di quello staff pure ma tremendi i re i re i re neri questa qui bernabèi come 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 porterò la sua stessa canzone che tanto guarda che stronza scusa fattore vai quest'altro ancora non ci posso pensare che ho dormito solo tre ore e mezzo per vedere bernabèi l'acomello che passano il turno ragazzi sono due cose della vita rispondi le proprio che è stata cattiva risponde in maniera cattiva fab anzi o cattivo tre ore e mezzo per vedere bene come lo che possono il turno perché lo passeremo ancora bravo bravo elisa is the way by no scusate è che proprio non c'era bene ma tra i big ma perché cioè ma chi te l'ha detto mai sbagliato se vera in realtà in tre anni ho avuto delle belle soddisfazioni per i traguardi che ho avuto sono un big ragazzi bravo così ti voglio ricordiamo i traguardi mentre maggio un po di tramezzini esatto tutto questo da persone che stanno tutta tutto il giorno sul divano non farò un cazzo questo cattivismo quanto voglia adesso mi incomincio a piacere la cosa però oggi abbiamo deciso di fare un diario breve perché siamo un po stanchi si fa sentire un po la stanchezza però non ti viene da ridere che hai letto dai alessio meriti di stare lì ti dice giovanna morabito poi dice io che bestiai mia se legge bravo bravo ale ti dice anna daniela ma cosa sabrina ti amo ti dice elisabetta tutte due vabbè comunque adesso sai come dicevo prima uno sport nazionale stare su twitter e criticare chiunque la cosa che ti ha dato più fastidio che è stata detta sui social ma guarda fastidi non ne ho tanto perché ecco no diciamo tante cose noi siamo in fine uguale a noi siamo infinito di qua di là ma non è vero quindi non mi non è che mi preoccupano le critiche in barattona si scivolano mi scivolano ma e poi c'è questa perché noi a noi ci sembra che il pubblico di twitter quello che critica è il pubblico è tutto il pubblico e non è vero da 0,1 per cento di molti che stanno a casa e dicono invece cazzo bravo questa è una cosa intelligente che hai detto perché non la capisco no ma perché ti confondono sui social che ti confondono e quindi ti fanno sembrare questo è vero pensano che sia la realtà invece no ragazzo la realtà è un'altra realtà è un'altra e ve la facciamo vedere domani e anche venerdì bravissimi raccomando continuate a supportarmi per le domande che lo chiedete ogni volta il diario va in onda su questa pagina facebook che state guardando lo riproporremo sempre su davidemaggio.it se volete fare domande dovete postare un commento su qualunque social utilizzando l'hashtag del di del diario che nel mezzo di un diario più sandre sanremo no sandre maggio a ma giusto per metterci di va bene a domani no ragazzi a domani siete grandi ciao ciao ciao